Buongiorno o buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei parlarvi del live action di One Piece. Iniziamo veloce e senza perdere tempo. Nella serata di ieri, 9 novembre 2021, è stato rivelato il cast dei protagonisti che andranno a comporre Mugiwara nella prima stagione della serie tv live action dedicata all'opera di Oda, che si potrà vedere su Netflix. Non si sa ancora quando, ma a parte ciò, andiamo a vedere chi hanno scelto per interpretare la nostra amata ciurma. Ah, piccola premessa. Sono sicuro che sbaglierò tutte le pronunce dei nomi degli attori, quindi inutile dirmi, eh ma guarda che si dice così, non riceverete una risposta. Ma detto ciò, direi di iniziare la carrellata. Inaki Godoi sarà Monkei di Rufi, ossia sarà il protagonista principale di questa serie tv. Diciamo che vedendolo così, senza le vesti di Rufi e senza essere truccato ad hoc, diciamo così, non lo vedo molto bene per quel ruolo, ma non vorrei subito pensare male, anzi, incrocio le dita. Anche se sappiamo che Oda aveva pensato al Brasile come nazionalità di cappello di paglia e questo attore è messicano, ma dai ci sta, più o meno. Invece l'età è quella giusta. Inaki ha 18 anni e Rufi nella saga dell'Est Blu ne aveva 17. Makenyu, o Machenyu, interpreterà Rorono a Zoro, cui penso che abbiano fatto una scelta quasi perfetta. Infatti la nazionalità scelta da Oda per lo spadaccino dei Mugiwara è il Giappone, e quest'attore è proprio giapponese, quindi con questa scelta hanno fatto strabene. Inoltre questo ragazzo ha recitato in svariati film, tra cui spicca anche Pacific Rim, Unpricing ed altri. L'età però non combacia molto con quella di Zoro dell'Est Blu, perché Makenyu ha 25 anni e Zoro ne aveva 19. Ma per ora non sono per niente deluso sulla scelta dell'attore per lo spadaccino. Jacob Gibson sarà Usopp. Tra tutti penso che questo attore sia quello più somigliante al cecchino dei Mugiwara. Non vedo l'ora di vederlo all'opera e soprattutto vedere le sue gag, quando si spaventerà come il nostro caro Usopp, il cecchino dei Mugiwara. Emily Rad, o Rude, sarà la gatta ladra, alias Nami. Diciamo la verità, ci sta alla grande ed è anche una bella ragazza come dovrebbe essere in realtà Nami. Anche qui, a parer mio, ci sono andati molto vicini. Tranne per la nazionalità, dato che Nami dovrebbe essere svedese, invece l'attrice che la interpreterà è americana. Ma sono sciocchezze, dai. Forse anche l'età non è molto azzeccata, dato che Emily Rad ha 27 anni e la gatta ladra nella saga dell'Est Blu ne aveva 18. Ma ripeto, sono cose da nulla. Taz Skylar sarà Sanji. Non ho niente da dire sull'attore, tranne che secondo me era più azzeccato per interpretare Eneru. Ma a parte ciò, potrebbe anche essere perfetto per Sanji. Ok che la nazionalità del cuoco scelta da Oda era la Francia, e l'attore che lo interpreterà è inglese. Ma non mi lamenterei per questo, vedremo come se la caverà nei panni del nostro cuoco preferito. Quindi, come avete visto, questi 5 saranno i personaggi principali di questo tanto atteso live action dedicato a One Piece. Naturalmente non dovete vederli così come li ho mostrati in questo video, ma dovete vederli vestiti e truccati quando interpreteranno i loro ruoli, prima di dire non ci azzecca, non va bene o altro. Io per ora rimango positivo. Gli attori scelti sono abbastanza azzeccati, incrocio ovviamente le dita e speriamo bene. Voi come sempre, fatemi sapere cosa ne pensate, siate educati, non comparate questo nuovo live action a vecchi live action di anime. E detto ciò, vi è finito. Se vi va di seguirmi su Instagram trovate il link in descrizione. Vi ricordo come sempre la collaborazione con Pampling ed usando il codice ILGUN91 avrete diritto ad un paio di calze in regalo. Trovate il link in descrizione. Spero che il video sia stato di vostro gradimento, fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto e non dimenticate di entrare nel canale Telegram di One Piece Unity dove troverete tanti fan di One Piece con cui discutere pacificamente. E noi ci sentiamo, come sempre, in un prossimo video.